Allora ragazzi, io il 31 e sono a Cina che dai Pinco vengo a mangiare qui per due cose. Ci si mangia bene, prima di tutto. E poi c'è anche la serata di Toscana Marema Maiala. Niente, ecco, andiamo, proseguiamo quel discorso. Allora. Antipasto. Conchiglia di insalata di mare. Volevano di calamare e piselli. Poi prosciutto crudo con pecorino toscano e riduzione con salsa all'arancia. Buona. Con uno sformatino di patate e pancetta. Poi, vediamo un po'. Poi, ora, seguitiamo coprimi. Allora, petale di pasta fresca alla trabacolana. Un piatto via reggino squisito. Poi, sempre coprimi. Poi si passa da un risottino multicereali al pecorino. Buono anche questo deve essere. Allora, per secondo calamari di pinco all'erbetto e sul pane tostato. Tutto fatto con le malinerci. Chiaramente i calamari li hanno presi a baccarello nel fosso. Poi, allora, una tartarina di limusine, diciamo, lasciata a marinare dall'84. su un piattino di lenticchie, leggo, che sto leggendo su lenticchie, con riduzione agli agrumi. Buono anche questo, comunque, deve essere meglio. La carne cruda di garbo, un monte. Tutto accompagnato da un bordolese di pinco. Poi, un'annata baccarello 81. Allora, vediamo un po' che nero. Chi vuol venire a capodanno deve prenotare, perché se non prenotare, ragazzi, già ve l'ho promesso. E ci fa pulito. Io, se non venite, ci fa pulito acquarrata, ve lo dico subito. Poi, chiaramente, dolce, spumante, uva, di buono auspice, tutto il resto, e tutto, capito? Suppre una tazzola, però. Allora, telefonate, ragazzi. Alle prime 100 telefonate, un set di pentole di coderino. È in regalo, capito? Bucaioli, vi ricordo di venire per capodanno. Ci sarà questo grande spettacolo di Toscana Maremma Maiala, appunto, mi stavo dicendo, che inizierà ai tocco di notte. Dopo la mezzanotte, dopo un po' di balli, si avvia con lo spettacolo. Ci saranno Iuri Bellini della pagina Toscana Maremma Maiala, appunto, perché, appunto, nessuno ci fosse lui, sarebbe inutile. E ci saranno anche la Ieri Angeli, dei Senza Fissa Memoria. Grande uomo di spettacolo. E saranno qui a fare per voi i bischieri, i buffoni. Vi sospetta. Prenotate ai 32 8 0 0 7 3 9 1 6. Questo è il numero di pinco. E mi raccomando, prenotate ai bucaioli. Vi sospetta.